Sì, che splendida ragazza! Amore mio, ma niente o niente fosse una ladra! Perché? Perché... tu si è rubato cuore mio! Oh, viralla! Posso chiedere un'informazione? Qual è la via per conoscerti meglio? Questo non è magari! Scommetto che il tuo nome è Alice! Da cosa lo deduci? Perché... possiamo sentire in dove essere in mea lì! Non so che! Non mi è tosto! Proprio un fuoco a mare! Scusa, il caso è fatto che ho un spacciatore! Perché? Perché si non sballa! Wow, che pietze femmina! Devi essere proprio una fata! Perché? Perché sei magica! Wow, stasera se non mi mangi una femmina non mi ritirai a casa! Ma sarei fatto proprio fin tu nel dicembre 2012! E perché? Perché si ha fino rumun! Gino a te diventa un tamburo! Ma che dici? Perché mi fai battere forte forte il cuore! Ma che fai battere forte! Oh Gesù! Ma che fai! Ma mi mangi proprio una bella guagliona! Ma non è! Ma si è appena asciuta rindo forno di una panettiera! E perché? Perché sei croccantissima! Per piacere! Fermati un attimo! Quando ti ho vista ha giù chiamato un manicone! Come mai? Perché mi fai impazzire! Guarda se sono proprio un gas! Non mi fermo un attimo! Rossa! O sai che mi parlo proprio con un semaforo? E perché? Perché quando ti ho già visto, mi ha già dovuto formare per forza! Dico! Ma di nome qua è Barbie! E perché? Che è una palla! Vi faccio a vedere lì! Vieni qua! Vi faccio che ti piace pure a te! Scusi! Ma non ho parole per descrivere! Che è l'ultimo! Affende un'altra cosa? Non mi parte che ho visto che sì, quando ti ho guardato! No non mi parte! perché mi hai fatto perdere la capa signorina, signorina è bellissima siccome non è natale perché sei esagerata 1, 2, 3 è bella, mi pare proprio il telescopio e perché? perché? ma sei vera e stella? scuso, sai usare lo sharingan? perché mi hai ipnotizzato ma sei usare amaterasu? perché c'è un incendio nei pantaloni scuso, ma fai parte del clan Aghimichi perché quando ti vedo mi vengono le farfalle nello stomaco scuso, ma vieni dal villaggio del suono perché quando ti ho visto mi sono stordito anzornato cioè poi ci privilegedi ecco ancora dopo che capita ora 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 Grazie a tutti.